Ciao a tutti, sono Luigina Roselli e sono la coordinatrice di Plesso della Scuola dell'Infanzia Mila del Popolo che è proprio qui dietro alle mie spalle. Il fatto che sia inserita in questo bellissimo parco che noi usiamo al completo ci ha dato la possibilità come team docenti di scegliere un indirizzo pedagogico che è quello dell'educazione in natura. Noi utilizziamo l'esterno tanto quanto l'interno e lo utilizziamo come ambiente di apprendimento al pari dell'interno forse anche di più perché diamo possibilità ai bambini di sperimentare direttamente tutto quello che è la natura e tutto quello che lei ci offre come maestra. Salve a tutti, io sono Renza Galluzzo, un'insegnante della Scuola dell'Infanzia la Villa del Popolo di Urbino e lavoro qui da cinque anni. è una scuola straordinaria perché avendo questo parco più unico che raro per una scuola dell'infanzia statale ci offre l'opportunità di sperimentare tutti quelli che sono gli apprendimenti in un ambiente in natura. Il nostro intento è quello di accogliere i bambini per renderli felici. Il nostro fine ultimo è quello che i bambini vengono a scuola sorridendo.